Per il potere conferitomi dal Consiglio Intergalattico dovrei ordinare la distruzione del pianeta Terra. Ma perfino quegli sfigati dei terrestri meritano un'ultima occasione. Verrà scelto un terrestre a casa, al quale daremo il potere di un dio. Se lo saprà usare per il bene la Terra Sar salva, altrimenti capù! Immagina una cosa che se la potessi fare cambierebbe la tua vita in meglio. Oh, facile, spiare per bene la mia vicina del piano di sotto. Posso far accadere le cose. Vestiti, venite a me. Mi basta solo un gesto della mano. Ti dono una parola. Biscotti, cosa? Biscotti, ti prego, non desidero altro. Ripensandoci, non mi dispiacerebbe strofinarmi sulla tua gamba. Posso risolvere tutti i problemi del mondo. Ci hai riflettuto a fondo? Tacca di cane, son palo in cesso. E' chiaro che non ha alcuna intenzione di fare qualcosa di buono. Fammi avere un gran fisico e un grandissimo... Non così grande, ovviamente. Sono stato egoista, posso far felici le persone. Che tutti i morti tornino a vivere. Non i morti viventi, ma siamo morti! Che io sia presidente degli Stati Uniti. Oddio! Senta! Qui ci sono gli aggiornamenti relativi alla Siria, al deficit, Israele e il Medio Oriente. Attenzione! E vai! Campanello, campanello! Figi di essere di nuovo una stupida bestia. Ti amo, Neil! Chiudi il becco, Dennis! Saltali addosso! Dammi il corpo di un grande uomo! Ma che...